ciao ragazzi per la mia live ciao benvenuto a roberta calugli come ti chiami benvenuto lorenzo lo strangile ciao ragazzi potete scrivere in chat ciao sono giacomo ciao ciao giacomo quanti anni hai o sei anni e mezzo ciao giacomo perché fai che lo faccia che faccia aspetta perché perché quando leggo un commento mi concentro benvenuto in chat francesco 404 40 per 6 alla seconda ciao giacomo dove hai comprato quel mobile quale aspetto o questo o quello o quello perché non li ho comprati li ho venduti su amazon giacomo ma perché rispiti così perché è raffreddore giacomo cos'è quello non è niente ciao giacomo come è andata la giornata tutto bene e benvenuto ciucciami pisello ciao benvenuto in chat per fare le domande io ripondo giacomo da quando è che fai live su instagram da ieri l'altro perché mio amico francesco ciluzzo mi ha fatto vedere come si fa prima non sapevo fare voleva fare una live con cristian tomasoni il mio amico giacomo smettila ok ciao ragazzi ci vediamo alla prossima live ciao 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 ciao